Oggi nuova strategia di trading su indicatori che mi avete consigliato voi, vi ricordo se qualcuno di voi ha qualche strategia da consigliarmi che possiamo andare a visionare insieme scrivetemi in privato, nei commenti o comunque entrate nel gruppo telegram pubblico, è gratuito, vi lo lascio in descrizione possiamo confrontarci sul trading e potete appunto consigliarmi o comunque sia mostrarmi qualche strategia che utilizzate Oggi andremo a vedere una strategia su euro-dollaro che è una coppia che solitamente non vado a tradare però mi hanno chiesto appunto di visionare questa strategia e di condividerla con voi devo dire che l'ho provata diciamo ogni tanto perché ripeto è un pair che non trado e difficilmente riesco a seguirlo proprio per bene magari come faccio con loro però ho notato che comunque è molto carina diciamo così ovviamente ragazzi soldo disclaimer vi ricordo che il trading non va fatto assolutamente soltanto magari con qualche indicatore ma assolutamente c'è bisogno comunque di contestualizzare tutto può essere un aiuto sì l'indicatore ma ovviamente non possiamo basarci solo su quello comunque sia ci sono delle strategie di scalping e non che con indicatori appunto ci vanno a suggerire delle cose magari non andiamo a notare guardando solo le strutture eccetera quindi sì possono essere tranquillamente d'aiuto a creare poi la propria strategia finale definitiva che poi non c'è mai perché anche io la sto sempre a modificare ad aggiungere robe a guardare altre robe quindi secondo me difficile che uno trova una strategia e rimanga con quella per sempre detto questo andiamo a vedere subito come funziona questa strategia devo dire anche molto semplice prima cosa ovviamente andiamo su euro dollaro euro usd andiamo ad impostare e questa strategia può essere utilizzata su time frame di 15 minuti e anche su time frame di un'ora possiamo andare anche sull'orario visto che è molto carina però solitamente ho visto che viene utilizzata su 15 minuti quindi andiamo ad impostare il setup degli indicatori andiamo a vedere quali indicatori richiede questa strategia sono due ve lo dico già andiamo a vedere come settarli e dopodiché andremo a vedere anche appunto come valutare punti di ingresso o di uscita dalla strategia quindi prima cosa andiamo su indicatori e cerchiamo come primo indicatore half trend eccolo qui andiamo a mettere il primo una volta selezionato ci apparirà così ma noi dovremo andare a fare alcune modifiche quindi andiamo qui sulla rotellina delle impostazioni e andiamo su input prima cosa da cambiare è questo primo parametro invece di due andiamo ad inserire cinque una volta inserito questo andiamo a fare altre piccole modifiche questa volta andiamo in stile e copiate esattamente questo che andrò a modificare io quindi andiamo a deselezionare questi due io sto sbirciando da qua che non mi ricordo a memoria e questi altri due ecco qui il primo indicatore è pronto mentre adesso ritorniamo su indicatori e andiamo ad impostare il secondo indicatore che è questo qui bull power bear power instagram eccolo qua anche in questo caso andiamo a selezionare il primo io l'avevo già inserito quindi uno lo vado a eliminare e qui dobbiamo andare su stile e deselezionare bar color quindi una volta deselezionato questo diciamo che è pronto una volta che abbiamo tutto pronto setup, indicatori e tutto possiamo andare a capire come funziona questa strategia quando è che dobbiamo entrare in long quando possiamo aprire o non aprire posizioni andiamo subito a verificare andiamo a fare il primo esempio di un'entrata long come valutare un'entrata long allora lo vedremo qui quando l'indicatore diventerà azzurro con la relativa freccia qui sotto possiamo valutare di entrare in long solo se però abbiamo come vedete queste barre dei volumi in colore verde quindi se i volumi ci indicano che stanno cominciando ad essere rialzisti possiamo valutare la nostra entrata long molto 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 semplicemente come in questo caso ad esempio magari aspettiamo un'altra candela di conferma e dopodiché facciamo la nostra entrata long come impostare stop loss e take profit solitamente lo stop loss lo andiamo a mettere magari un po' più sotto dell'ultimo minimo e il tp lo andiamo a mettere per circa una volta e mezzo lo stop loss solitamente io preferisco quando almeno testo o utilizzo queste strategie mettere stop loss e take profit in rapporto uno a uno dopodiché magari lì andiamo a mettere la posizione a break even poi magari lasciare proseguire la posizione verso un altro target comunque vabbè vediamo che in questo caso anche una volta e mezzo anche due volte sarebbe stata presa comunque la posizione altro discorso per il sell come vedete allora torniamo un po' più indietro eccolo qua andiamo a vedere come entrare in short in questo caso ecco qua qua ci dà la freccia quindi appunto entrata short la linea diventa rossa aspettiamo la conferma vediamo che qui sotto abbiamo i volumi che diventano rossi aspettiamo magari due tre candele dipende se vediamo che non siamo proprio convinti e apriamo la nostra posizione stop loss sopra l'ultimo minimo diciamo così e via così come vedete anche in questo caso la posizione sarebbe stata presa ovviamente si tende a mettere lo stop loss rispetto all'ultimo minimo perché se sta lateralizzando come in questo caso andiamo a vedere anche un caso di tra virgolette perdita perché forse non sarebbe stata considerata una posizione fattibile come vedete in questo caso c'è la freccia c'è la linea blu quindi valutiamo di entrare in long magari noi saremo entrati qui che abbiamo visto che qui sotto c'era una barra di volumi verde diciamo ok entriamo però in questo caso lo stop loss lo andavamo a mettere qui ci prendeva lo stop loss però una cosa te lo prende così stretto è una cosa invece prendere un tp così grande quindi diciamo che il win rate ha una buona percentuale mi è stato detto che è circa dell'80% però la cosa buona ovviamente è che il profitto che si va a fare è molto ampio perché quando si prendono queste zone come vedete ad esempio qui c'è tanto da prendere non è una volta e mezzo ma magari è di più rispetto allo stop loss stessa cosa questo sell guardate quanto era bello ovviamente poi inutile che siamo qui a parlare dipende da situazione in situazione sì però se riusciamo a gestire bene il tp vedete che molto spesso lo stop loss è stretto ma il tp è molto ampio quindi si può fare bene si può fare bene se gestita bene comunque sia ripeto sono strategie vabbè il disclaimer già l'ho fatto non voglio stare qui a fare la stessa cosa però spero che lo capiate questo io stesso non trado in questi modi cioè nel senso ripeto possono essere aiuti ma niente di più non mi piace trattare solo con ok entriamo long ok entriamo short che ci sta eh ci sta c'è pure chi magari guardando le statistiche dice questa strategia va bene quindi la continuo ad utilizzare non so però se questa strategia è valida anche per altri pair diciamo così perché chi me l'ha girata mi ha consigliato euro dollaro non so poi lui dove l'ha vista eccetera se magari l'ha già provata e vorrei provarla perché devo dire che poi non è così male se proprio vogliamo dirla tutta quindi non so se qualcuno la usa magari mi fa sapere se può andare bene anche su altri pair per adesso io ho notato che su euro dollaro 15 minuti è abbastanza carina abbastanza carina lo ammetto nient'altro da aggiungere ragazzi vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace e l'iscrizione al canale e se avete appunto altre strategie di questo genere o vi piace sapere magari su qualche altro pair sulle crypto fatemelo sapere nei commenti in modo che mi organizzo magari cerco di trovarne altre e condividerle con voi semplicemente noi ci vediamo al prossimo video